Da qualche tempo vanno avanti i lavori di consolidamento sul viadotto Gamberale, appaltati dall'ANAS a seguito di una denuncia lanciata sui social e sulla nostra tv da Giuseppe Padula, giovane operaio edile di Civitanova del Sannio. Avviato dopo il catastrofico crollo del viadotto Morandi di Genova, questo intervento dovrebbe finalmente mettere la parola fine alle preoccupazioni di chi transita su questo tratto della Drignina. Ma ora è la segnaletica del cantiere a destare perplessità tra gli automobilisti. La segnaletica orizzontale provvisoria, ossia le strisce continue di colore giallo verniciate sull'asfalto, risultano infatti visibili solo di giorno. Con il buio invece prevale la visibilità della segnaletica originaria, cioè quella di colore bianco. Percorrendo il viadotto in direzione vasto, spiegano gli automobilisti, le auto e i tir vanno a incrociarsi con quelli di retta esernia che troppo spesso non fanno caso al restringimento di carreggiata. Sebbene ciò sia messo in evidenza sia dalla segnaletica orizzontale sia da quella verticale, applicata anche a debita distanza dall'inizio del cantiere, spesso è proprio la condotta dei veicoli provenienti da vasto a generare criticità e pericoli, costringendo a volte conducenti dei veicoli provenienti dai serni a brusche frenate o a repentine uscite di carreggiata verso l'area del cantiere pur di evitare la collisione. Con il buio il pericolo aumenta, poiché, spiegano ancora gli automobilisti, i segnali stradali posti a ridosso delle poche barriere di Jersey non sono sufficientemente rinfrangenti e l'illuminazione è scarsa. L'augurio degli automobilisti è che si intervenga al più presto per prevenire ogni potenziale pericolo.